Da lontano comunque io l'ho visto bene, però ho visto una mano nella mischia e per fortuna ha dato rigore. È stata premiata la voglia di crederci fino alla fine? Sì, come ripeto, siamo una grande squadra che non molla un centimetro fino alla fine e per fortuna abbiamo portato a casa un grande punto contro una grande squadra. Quella di stasera è stata una gara più equilibrata rispetto a quella dell'andata? Sì, noi abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo fatto secondo me un gran possesso palla, anche nel primo tempo siamo stati sfortunati sul gol, però comunque sul rinvio del loro portiere potevamo evitarlo, però comunque tutto sommato è andata bene. Domenica ci sarà il derby contro il Modena, un'altra sfida importante? Sì, da domani cominciamo a parare la partita al meglio e cercheremo di vincere come ogni partita.